Abbiamo il nostro fotografo personale? Quello è il tempo delle mele, non il tempo delle more. Si parla di una fana, una fana che ha coltito il municipio delle paelle. E da lì poi hanno deciso di spostare il paese facendo così del paese nuovo e applicano il mare. In fondo alla valle del mare. Un altro paese sempre spaggia la parte viatico che è casa di nuovo. Se lo avete fatto fatto lo vediamo quando andremo avanti. Guarda, c'è altri obiettivi. Vedi quella giù? Quale? Vedi quella cassa giù dentro il posto? Eh, ma quella è troppo lontana. Abbiamo tanti tratti all'ombra. Una senza lita poi sarà un po' all'ombra. Non mi dico. Non mi dico che deve tratti anche all'ombra, ma sta lì per lì. Aiuto. Lei? 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 E tu che lì? Tu che lì? Li? Non è che si fa, c'è la direzione, è un botanico. Non è che si fa, è come si fa, si fa, è pensibile. No, ma secondo me sta inizia. La benale di Venezia è la finestra. Questa è a Gile. Non c'è una grana, non c'è una grana. L'hai scappata per tutta la vita. La benale di Venezia è la finestra. Per il carinaticismo. Non c'è una grana. Non c'è una grana. Non c'è una grana. Non c'è una grana. Beh, non vuoi sentire gli argomenti? Non vuoi parlare più, con chi vuoi? Si, ci può fare. Non ci vuoi fare. No, no, aspettavo lui per mettermi in posizione. No, ma fa un coma. Non c'è una grana. Ma... Ah, Giro o Giro? Non c'è una grana. Si, la prima volta che non c'è... Ah, non ho l'ascostato. No, non ho l'ascostato. Ma... Non c'è un sconso. Vedi mila, ma anche il bimbo... Ah, quindi mi pare con la aposta. Si. E chi è una coppa? Ah, ma ho l'ascostato. Quindi parla? Non ci vuoi fare questo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.